Questo è un tour che nasce in questo modo. Noi prima di tutto non prendiamo i rimborso elettorale, ormai credo che lo sapete tutti. E abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro di rimborso elettorale. I milioni di euro che servono anche a pagare le sedi del PD, con tutto l'affetto ve lo dico. No, con tutto l'affetto. Però noi vi vogliamo col posto di lavoro, non c'è dubbio, però questi soldi sono soldi rubati ai cittadini, non sono soldi che possiamo usare. Questo è un mondo all'incontrario. È un mondo dove dei parlamentari devono andare sotto il Ministero dell'Economia e dormire tre giorni per restituire soldi perché non ci volevano aprire il fondo. Ma voi vi rendete conto? Non possiamo ridare soldi indietro. E oggi invece quei soldi sono in un fondo a garanzia delle piccolissime imprese. Sta cambiando tutto. Loro questa onestà, questa trasparenza non la vogliono. Loro volevano spartirsi la torta con noi. È quello che ci hanno chiesto all'inizio. Sedetevi a tavolo! Noi non ci siamo seduti a tavolo. L'allanza col PD. Il PD dove sta il cassetto? Stava il cassetto! Stava il cassetto! Stava il cassetto! Stava lì! Io ve lo giuro! Io lo so che ci credete, però quello che voi andate a votare, la X, si tramunta in qualcosa. E voi stessi non credete! Io le ho viste queste mutazioni genetiche! No, le ho viste, ve lo giuro!